E' un po' rischioso Soprattutto perchè in questa zona E' meglio tenersi tutte le risorse Ben effetto Ah No No Come cacchio devo fare ora? Direi che possiamo fare solo una cosa No vabbè basta a cazzeggiare Allora Allora dicevo Cosa si può fare? Qua non c'è nemmeno Non ho nemmeno il piccone quindi Ok è una situazione in cui non volevo In cui non volevo capitare Ok sono in mezzo ai nemici Sto morendo Che cosa? Cosa posso fare? Eh? No ma ci sono troppi zombie Ma porca puttana Quando è che esce la mattina? E a chi disse luce E luce fu Non vi permettete Non vi permettete Non vi permettete Forse devo uscire di qua Oh 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 no cazzo No 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 Troppi creeper Ah chi che sopravvive Dio mio Che sopravvivenza Altro che sopravvivenza estrema Questa è più che Oddio non mi sono fatto nemmeno niente Sono un pro Sono un pro Guardate c'è pure l'entrata libera Che pro Che pro Oddio mio Vabbè hanno fatto un buco enorme Però non me ne frega un cazzo Ho anche raccimolato un po' di 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 Non mi viene il nome Vabbè quando mi viene lo dico Di polvere da sparo ecco Allora lì Ci dovrò arrivare il prima possibile Anzi ci arrivo ora Però prima devo andare nella mia base E sistemarmi Allora non ho lana Non ho niente Che cacchio posso fare? Non posso manco farmi un letto Quindi devo Devo pensare prima di tutto A farmi Un po' di equip Quindi Allora partiamo prima di tutto Col Col fare una porta Qui No Qua Qui Ok Sì però dobbiamo sistemarci l'entrata Cioè della serie che Ok è una merda Dai forse Teniamola così Poi non abbiamo il piccone Quindi non possiamo Sistemare niente Che sia fatto di pietra Dobbiamo anche tornare in quella zona Dove c'è la lava Insomma c'è un po' di cosa Un po' di cosa da fare Ecco Allora Qui abbiamo del Gustoso Ferro Sì perché il ferro è gustoso Allora qui Prendiamo la cesta E la piazziamo da qualche parte La mettiamo qui dai Sì Bravo Aki Siamo stupido La mettiamo un po' Incassata nel muro Però abbiamo prima bisogno del coso Ah Non so che fare Vi salvo gli stick Allora Due stick Pensiamo con calma Prima gli stick Poi arriva il piccone Piccone sia Poi da piccone Rompiamo qui Ceste Ok qui ci mettiamo Altra roba che è inutile Che mi serve E che deve morire Nell'inferno Yeeey Allora Abbiamo Nove ossa Due string Anzi no Di più fura Abbiamo quattro string Nove ossa Due All'incirca dieci di oro Gravel Poi abbiamo Più di cinquanta di carbone Sì cinquantotto Per l'eserdezza Del pane A chi è stato Pannato da youtube No scherzo Eeeh Lapisrazzuli Vabbè Il polvere da sparo Allora Io direi che È meglio farsi Vabbè Non ho manco Non ho manco abbastanza legno Quindi Allora con questo Equip Io vado a Sistemarmi un attimo A farmi un po' di legna Sì vabbè Però prima ho bisogno Dell'ascia A chi ma com'è che oggi Stai così Ok Allora facciamoci questa Cetta Per tagliare La legna Per fare L'albero Ci vuole il legno Per fare il legno Ci vuole A chi Per fare a chi Ci vuole A chi Per fare me stesso Ci vuole me stesso Ci vuole me stesso Perché Io sono me stesso Quindi No aspetta Vabbè Allora rompiamo questa Questa cosa qua Ok Ciao castello Sei un castello Molto fascista Fascista Baratro della disperazione Che cavolo è là Mi sembra un portale Dell'end No un attimo No non riesco a capire cos'è È un bug Boo Ah no Mi sembra vetro Comunque Ah c'è un altro albero Oh hey Hey there You are my new best friend Ti ho appena ucciso Ehi il mio amico Allora ricordiamoci Che tra gli obiettivi C'è anche Oltre Il fatto di conquistare il castello C'è anche La questione Di crearsi Una Fattoria Cioè non proprio fattoria Un Un raccolto di bambù E Cazzi vari Quindi Dovremmo raccoglierci un po' di bambù Prima di partire per un lungo viaggio No vabbè Se anche parte per un lungo viaggio Cosa faranno le mie Fungirl Citazione Della prima Della prima Del primo episodio Del mio Let's play Allora Controlliamo una cosa Ok a posto Allora Dicevamo Dobbiamo andare a prendere Prima i cactus Quindi I cactus Stavano Da che parte Cactus Ah ecco Prendiamo i cactus E E qui Oddio mio Che cavolo Ah una delle regole del gioco E di non lasciare l'isola E di non Addentrarsi nel mare Se non per cercare Qualcosa Insomma Se si vede qualcosa di interessante E questa cosa la faremo Molto 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 più avanti Quindi Non preoccupatevi Succederà Ma non ora Ecco Non riesco ad entrare nella porta Ah Forse è meglio se faccio una scaletta Vito scaletta Citazione di mafia 2 Allora Allora Facciamoci queste Queste scale Tanto saranno veramente 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 Oh veramente Veramente Intendevo dire Saranno veramente fittizie Perché poi Le cambierò Allora Prendiamoci Un solo blocco da 64 Per bastare Armiamoci di buona lena E andiamo A collegare questa Nutshell Con il castello Sì E la lag non mi fa salire Maledetti Ma vediamo a che punto è il sole Sta scendendo Dobbiamo sbrigarci Perché se arrivo là Per il tramonto Io qua arrivo di notte E mi fanno il culo Allora Facciamo questo Ponte Allora Quanto pare Sembra che sia possibile Visitare Il Il castello Quindi Allora Nutshell Nel vero senso È la parola Molti dei video Di youtube Sono Sono basati Sul Sul Tizio Caio In un Nutshell Che si intende dire Che con quello Si intende dire Cioè Qualcosa In Una durata Veramente infima Di tempo Ok Mancano In circa 10 o 20 spazi Dovrebbero bastare Però con due torce Non credo di poter andare Così senza Nessuna Nemmeno protezione O Qualcosato O qualsiasi altra cosa Dobbiamo prima Trovarci un altro po' di ferro L'armatura duro Non me la vedo proprio Oh bene Ci stiamo avvicinando Se sono 64 spazi precisi Sono un pro Se non lo sono Piango E non scherzo In avvicinamento 3 2 3 2 1 No Non sono abbastanza Sono di più Quelli che ho preso No No